Benissimo! Benissimo! Si vede? Se ho gioco altra volta la faccio per i coglioni! Ma dove devi andare dopo? Gira dentro! Adesso lo grigli? Adesso si gira A zero! Ma vai dista! Oh! Sette vuote! A zero! Gili, ma a destra! Eh! O dritto! Aspetta! Non puoi tagliare la pianta che è dell'inverno! Aspetta che tira via qualcosa la nostra vita! Bravo! Non ti dà a dire che mi sei pulito! Oh! 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 Che cosa? Ho tre manegate! Vai! Vai, Zampi! Ah! Diritta! No! 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 Nel destra! No! 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 cioè di là è più difficile sta fermo che è più difficile guarda ora eh guarda ora e dai vai che tende la parocchietta dagli un cazzo che dagli figa questa va eh o piccione dagli dagli un cazzo figa Rodagli ma dove cazzo vuole lei? figa Rodagli devi stare anche attaccato devi stare dai dagli dagli minchia gli ho dato è andato via 100 all'ora terza figaro sì ma caso gli dai forte figaro non riesterà a posto puoi andare papi pulita giunta giù filmarli là cazzo oh bene io li ho�i grazie su come pesante sol�� fila devi stare indietro marca vacca oh allora come sono andati